Stavolta la beneficenza del Leo Club di Taranto passa dai paper egg, piccoli ovetti di cioccolato dai vari gusti da comprare e assaggiare al costo di 5 euro. Il ricavato è destinato interamente in beneficenza per l'acquisto di equipaggiamenti e attrezzature da destinare agli enti di soccorso italiani, protezione civile, croce rossa, vigili del fuoco e anche altri soggetti come aziende sanitarie locali, centri sportivi e scuole. A Taranto il gazebo del Leo Club è stato allestito in Piazza della Vittoria, due giorni, quelli del 9 e del 10 aprile, dedicati a Leo for Safety and Security, come spiega la Presidente Giuditta Colangelo. Siamo in Piazza della Vittoria per il nostro progetto a livello nazionale, Leo for Safety and Security, con cui sensibilizziamo al primo soccorso, quindi abbiamo fatto anche incontri di manovre di primo soccorso, di disostruzione, ma oggi in particolare raccogliamo fondi per questo progetto per poter donare anche attrezzature e materiali, equipaggiamenti moderni e aggiornati di primo soccorso, adenti sia pubblici che privati, che purtroppo non hanno ancora materiale aggiornato. In passato abbiamo aiutato la Croce Rossa e adesso procederemo con altre donazioni. Per Pasqua stiamo distribuendo degli ovetti pasquali, sono confezioni con ovetti di vari gusti, cioccolato al pistacchio, nocciola e fondente, il costo a confezione è di 5 euro.